Dal primo di gennaio partirà il nuovo servizio nella città di Varese, erogato dall'impresa San Galli. Come comunicato nella conferenza stampa, verranno introdotte una serie di azioni volte all'allegioramento dell'efficacia dei servizi erogati e all'inalzamento del livello di qualità e della percentuale di raccolta differenziata. Il contratto prevede una fase cosiddetta morbida di quattro mesi durante i quali noi avremo modo di effettuare tutta una serie di ridini puntuali, di concertazioni, di verifiche sul territorio in modo da tarare i nuovi servizi nella maniera più efficace. Da subito verrà introdotto un potenziamento della polizia manuale meccanizzata che avverrà prolungando la presenza degli operatori sul territorio e successivamente con tutta una serie di ulteriori azioni in quale la sostituzione dei cestini con cestini molti scomparto, l'inserimento di sensori di riempimento in modo tale che i cestini pieni vengano segnalati in tempo reale agli operatori, l'introduzione di mezzi esclusivamente elettrici per l'esecuzione dell'attività di polizia nel centro cittadino. Per quanto riguarda invece i servizi di raccolta, anche essi verranno potenziati e verranno introdotti servizi dedicati per le utenze domestiche o utenze non domestiche in base alle reali esigenze. Per fare qualche esempio verranno effettuati potenziato servizio di raccolta della frazione umida, ad esempio per le utenze ristoro, quindi che hanno una cucina e un maggiormente questo tipo di rifiuto. Verranno introdotti servizi per le utenze domestiche, quali il servizio di ritiro dei pannolini e pannoloni, oppure potenziato servizio di ritiro ingombrante che passerà settimanale, con anche la possibilità per le utenze a mobilità ridotta di servizio direttamente al piano. Tutte le novità verranno comunque sempre precedute e accompagnate da una campagna di stampa dedicata, in modo tale che le utenze siano sempre ridotte e possono fondamentalmente poi non solo conoscere nel dettaglio quanto attivato, ma dare anche il loro contributo a tutte le azioni che verranno messe in campo. Fermarei qua, sono interviato.